Salve a tutti, sono Mattia Ciao per le amiche più intime, Matioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto alla nuova puntata di Microfono Aperto, la rubrica settimanale in cui rispondo a tutte le vostre domande recuperando anche quelle che magari in settimana non sono riuscito a leggerne, le varie rubriche, facce di nerd, lo show. In realtà stavolta siamo già perfettamente in linea quindi ci sarà ampio spazio per quesiti nuovi, freschi, inediti, la scaletta è sempre quella, precedenza agli abbonati che potranno fare massimo due domande, anzi adesso nella sezione community creo il post a loro dedicato, poi passeremo alle super chat, poi passeremo alle domande della chat, quelle appunto free, gratis per tutti. Oggi la domanda principale, cruciale, il main event riguarda, lo leggete nel titolo, come ho conosciuto i membri di facce di nerd e devo fare due importantissime premesse che probabilmente spingeranno molti di voi ad abbandonare direttamente la diretta. La prima premessa, non ricordo con precisione tutte le genesi, per un motivo molto semplice, all'epoca non sembravano momenti cruciali, non sembravano svolte epiche per la carriera professionale, no. Persone conosciute un po' per caso nell'ambito di gruppi, di occasioni variegate ma non particolarmente significative, quindi potrei fare fatica in alcuni casi, mi scervellerò assieme a voi. E poi c'è la seconda premessa, la maggior parte di queste origin story sono banali, scontate e ripetitive. Non aspettatevi grandi colpi di scena. In alcuni casi ci sono dei racconti singolari, in altri vi renderete conto che sono storie tutte uguali. Perché? So, Pippo Baudo e lo capirete procedendo. Detto ciò, non so bene che ordini seguire, quindi, visto che ho una rubrica bella interattiva, comincerei ad accogliere le vostre indicazioni in maniera molto semplice. Con chi iniziamo? Ditemi in chat. Adesso il primo nome che intercetto, comincio. Non mi sono preparato niente, non che le altre settimane mi fossi scritto qualcosa, però magari avevo una vaga traccia mentale. Invece oggi sono proprio così fresco come una rosa di getto. Allora, il primo nick che leggo qui nella chat, aspettate, andiamo in rigoroso ordine, è l'uomo che sapeva troppo. Beh, qui, 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 me lo ricordo perché è una situazione abbastanza fresca nella memoria ed è anche tra le più curiose, quindi bravi, bravi, bravi. Allora, ho conosciuto l'uomo che sapeva troppo in una diretta di Farenz. Magari non tutti conoscono Farenz, è uno youtuber della vecchissima guardia, parliamo di 2008, 2009, 2010, che parla di videogiochi e che ancora oggi seguo con grande affetto, un uomo capace di farmi ridere della grossa e di farmi interessare ad argomenti che in altri casi non riterrei particolarmente rilevanti. E allora nel corso di una diretta l'argomento, forse si parlava proprio di recensioni di videogiochi dal punto di vista dei membri della stampa perché l'uomo lavora per IGN, ho visto questo individuo che mi ha subito colpito per il suo grande fascino, per la sua parlantina, per il modo che ritenevo altrettanto valido, equiparando la Farenz, di intrigarmi, raccontando aneddoti, situazioni che magari invece avrei ignorato. Quindi mi sono un po' informato, vedevo, sono andato a controllare il suo canale e notavo che comunque era un nerdaccio a 360 gradi che gli piaceva la Marvel, Spider-Man, i supereroi, i film. Vado su Facebook per mettermi in contatto e noto un suo messaggio privato che risaliva almeno a 3-4 anni prima in cui si proponeva per partecipare a Facce di Nerd. Io gli avevo anche risposto, avevo dato una risposta che può sembrare politicamente corretta ma che era anche autentica, ovvero in quel periodo c'era una grandissima fila di aspiranti partecipanti al format e lui non conoscendolo bene, non sapendo bene chi fosse, gli risposi guarda, volentieri però sappi che c'è veramente una lista d'attesa infinita e interminabile. Beh, a un certo punto la lista d'attesa è finita e infatti ha cominciato a far parte di Facce di Nerd. In realtà il mio interesse si è acceso e quindi eccolo lì. Vedete? Questa semplice. Già qui c'è un po' di intrigo, altre storie saranno belle dirette, straightforward per usare un termine americano che mi è venuto in mente senza motivi plausibili. Risalendo la china dopo l'uomo trovo Victor e c'è anche il signor Giacomo e siccome sono accomunati io li inserirei all'interno della stessa narrazione. È forse la storia più interessante, quantomeno quella che si disperde nelle nebbie del tempo. Dobbiamo risalire al 2010. 12 anni fa, 11-12. Sono andato a controllare prima di iniziare la diretta. Concorso per i 3.000 iscritti di Yotobi. 3.000. Un Yotobi che nel video in cui poi andava a premiare i vincitori, adesso vi spiego, dice con stupore che quando ha dato il via al concorso aveva appunto 3.000 iscritti mentre poi quando si trovava a registrare questo video conclusivo ne aveva già 4.500. dicendo, ho vinto la lotteria, se pensiamo a dove è arrivato poi, erano solo le prime briciole di una pagnotta molto grande. Quindi, concorso dei 3.000 iscritti di Yotobi. In cosa consisteva? All'epoca lui era specializzato, ve lo ricorderete, nelle recensioni ironiche di film brutti, film trash. Quindi proponeva a chi lo seguiva di fare pressa poco la stessa cosa. Non in modo identico, ma utilizzando sempre la stessa struttura. Quindi raccontare, recensire un film considerato atroce. e partecipò più o meno quello che poi è diventato per un bel periodo il gota della YouTube del Nord Italia, divisa tra Torino e Milano. Infatti troviamo all'interno del concorso veramente dei volti notissimi, ma in particolar modo mi stavate chiedendo di Victor. Tra i partecipanti al concorso, oltre al sottoscritto che venne motivato da un mio amico, c'erano Victor, credo anche il signor Giacomo, perché Yotobi ne fece due o tre di questi concorsi. Quindi magari faccio fatica a distinguere. Sono come i tornei tenkaici in Dragon Ball. A volte non riesci a capire. Quello scontro avveniva nel primo, nel secondo, nel terzo. Ma Victor al 100%. Pallonv, con un youtuber che ormai non è più attivo, ma che ha fatto parte delle mie amicizie più care e ne fa ancora parte, semplicemente non fa più video, partecipò. Il signor Giacomo, all'epoca noto come RJ266, probabilmente faceva parte dello stesso lotto. Quale recensione hai fatto? Quattro carogna me lo passo, il primo video del canale in cui mi facevo vedere, perché prima invece proponevo un format alla Jalapas, quindi non mi si vedeva, si sentiva solo la voce. Dunque, io mi classificai secondo, se ben ricordo, oppure terzo. Pallonv, secondo oppure terzo, scambiate. C'era anche Victor nel mucchio con la recensione di In The Name of the King. Quello protagonista statam? Mi sembra di sì. Da lì si formò appunto questo nucleo che vi ho detto, ovvero Pallonv si ricordò di avermi visto in una lezione in università. Non so come fece. Quindi ci incontrammo proprio in università, cominciamo a frequentarci, e poi siccome eravamo pochissimi, voi dovete immaginare una YouTube veramente primigenia, dove tutti conoscevano tutti, e tutti si interessavano a tutti, ci mettemmo bene o male in contatto, scoprendo di abitare pressapoco nella stessa zona, e da lì cominciò una frequentazione. C'era questo simpatico gruppo di cinque, sei persone che eravamo io, Victor, Giacomo, Dave Plisken, Pallonv e Cimderup, sì, quella che adesso è diventata la rappresentante del femminismo italico, all'epoca era una persona molto diversa. E beh, ci incontravamo e spacciavamo nei parchi. No, scherzo, ci incontravamo per passare dei bei momenti, anche perché quello fu un momento abbastanza cruciale nella vita di tutti, suppongo, in parte perché si aveva l'impressione di essere all'inizio di un percorso interessante, all'inizio di una svolta, e se pensiamo a cosa è diventato YouTube, beh, è un po' perché finalmente si conoscevano delle persone con cui potersi riconoscere in tutte e per tutto, con gli stessi argomenti, con lo stesso tipo di umorismo, le stesse affinità, e da lì in avanti non ci siamo più mollati. Quindi tutto nasce veramente nel 2010, sono ormai 12 anni, poi alcuni si sono persi per strada, sono arrivati nuovi ingressi, d'altro canto 12 anni, è un lasso di tempo molto lungo, immagino che anche voi nel corso degli ultimi 12 anni abbiate intessuto, oppure perso dei legami, delle relazioni, ma questa è proprio l'origin story forse più profonda e pervasiva tra tutte. Anche perché all'epoca non ci si conobbe col preciso intento di poi lavorare. No, no, ci si incontrò per passare del tempo piacevole insieme. Quindi, signor Giacomo, abbiamo detto, Victor, signor Giacomo, Filippo, altroquando, ecco qui. Ciao Svet, intanto saluto Svet, saluto Martina Vidrip. Filippo, altroquando, ha un'origine in comune, ha degli elementi comuni con quella di tanti altri, perché poi vi renderete conto che ad un certo punto mi sono improvvisato Talent Scout e per Filippo, altroquando, vale più o meno questo meccanismo, ovvero in un momento in cui Skypocalypse era terminata, chiusa, ma probabilmente ci dedicheremo un'altra puntata della rubrica, non so se subito dopo la chiusura oppure in un momento in cui volevo volutamente intristirmi e cercare video commiato realizzati da altri creator, sapete quando siete tristi e a maggior ragione ascoltate canzoni tristi con una dinamica peculiare, cercai su YouTube Recensioni Skypocalypse e mi imbattei in questo video di Filippo, altroquando, bellissimo, che potete trovare ancora oggi, così come potete trovare il concorso di Yotobi, è tutto lì documentato, in cui Filippo, altroquando, giusto appunto, parlava in termini entusiastici, malinconici, toccanti, commoventi, della mia webserie, cosa che mi colpì immediatamente, ma mi colpì ancora di più scoprire che sul suo canale parlava di fumetti in una maniera peculiare, assolutamente affascinante, io credo ancora oggi che il canale di Filippo, altroquando, sia il più sottovalutato di YouTube, sia in assoluto il più sottovalutato, perché i contenuti che propone potrebbero essere trasmessi in televisione in prima serata, senza alcun tipo di problema, realizza dei veri e propri documentari, degli show di intrattenimento, con spazio anche per approfondimenti culturali, quindi si merita un successo molto più ampio di quello che già ha. E cominciai a contattarlo, cominciai a coinvolgerlo nelle rubriche e da quel momento in poi non se n'è mai andato. Continuo sempre a risalire nel momento in cui vi siete sbizzarriti con i nomi. Abbiamo detto Filippo altroquando, giusto appunto, Giulia Cosmopolinerd. E qui la situazione comincia a diventare ripetitiva, ovvero avrei bisogno di nuovi ospiti per il canale, avrei bisogno di maggiore varietà, avrei bisogno di qualche new entry, ricerca su YouTube, recensioni nerd, recensioni film, recensioni serie tv, recensioni fumetti e l'ho trovata. Mi ha colpito per la sua energia, in parte mi ricordava il me stesso agli esordi, quindi veramente caricato a pallettoni, urlante, esagitato, esagerato, lei aveva già molta più classe, però notavo dell'affinità ed effettivamente direi non ho sbagliato. Qui cominciamo ad essere sintetici, belli diretti e cominciamo, come ho già detto, a diventare ripetitivi, molto ripetitivi. Poi Giulia Cosmopolinerd fatta. c'è veramente la lista da spuntare. Fatemi vedere, abbiamo già detto appunto di Cosmopolinerd, Giacomo e Victor erano i più quotati e abbiamo risposto Andros, Andros? Già qui si fa difficile perché non ricordo il momento esatto. Credo di averlo conosciuto prima di persona per via di amicizie comuni e il trade union credo sia stato proprio Victor che mi disse ma guarda che è uno molto capace, ha la parlantina, aveva già un canale attivo con contenuti variegati, all'epoca realizzava cortometraggi ricchi di effetti visivi e a quel punto ma sì per arricchire un cast veramente primigenio forse addirittura antecedente a facce di nerd siamo nel merito di nerd planet live probabilmente va bene può funzionare coinvolgiamolo e il resto è storia sì c'è anche la situazione bravo Giulio quel contatto lì a livello di amicizie in comune probabilmente nasce effettivamente nella circostanza seconda stagione di skypocalypse dove dovendo sostituire un interprete alla recasting maniera ci fu bisogno di trovare una persona con esperienze recitative che lui aveva e anche una certa fisicità forse quello è stato il primo contatto in assoluto ma già lo conoscevo non era esattamente una persona ignota se unite tutti i puntini avete ricostruito perfettamente l'origin story risalendo un'altra volta la chat in questo mare di messaggi di commenti vediamo un po' abbiamo detto Andros e proseguendo troviamo Angel il signore Angel Longrain e qui in realtà potete scoprirlo in maniera molto immediata andando nel canale di Victor allorché Victor e Svet mi coinvolsero in una campagna GDR a tema Star Wars dove nacque il personaggio di Ribbon Sonchard un membro scartato della Cantina Band e il master di questa campagna GDR fu il signor Angel Longrain con questa voce calda seducente molto creativo molto appassionante nelle modalità di racconto se non avete mai seguito quella campagna potete recuperarla sul canale di Victor ne vale sicuramente la pena tanti colpi di scena tante situazioni deliranti come in una bella campagna ruolistica che si rispetti The Darkest Ecos esattamente andate a vederla e non ve ne pentirete non ho mai visto la sua faccia se vi può interessare visto che lo state chiedendo in molti però ho un identikit che dopo vi mostrerò anzi ve lo cerco subito così magari non vedete la sua faccia ma potete avere una vaga idea di come possa essere fatto sono stati intervistati vari testimoni in modo accurato e attendibile quindi sta per arrivare il suo profilo salvatevi questo momento perché può essere veramente storico ecco questo è il volto di Angel Longrain eccolo qui ce lo descrivono in questo modo occhialini capelli corti e messaggi cifrati da scoprire ecco questo è il signor Angel Longrain che saluto calorosamente bene 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 sempre sono riuscito a rimanere serio fino adesso poi Filippo F Filippo F partecipò ai format di Martina Vidrip che vi invito a seguire su YouTube su Instagram parla di musica in maniera interessante appassionante adatta a tutti sia esperti che nabbi e all'interno di queste dirette che ricalcavano un po' il format facce di nerd ma ovviamente improntati più sul mondo musicale c'era il signor F che con hobby iniziamo ad interagire e come sto dicendo molto spesso non ci siamo più lasciati semplice semplice lineare dopodiché abbiamo detto Filippo F messaggi sempre più numerosi Angel abbiamo visto Scream stessa formula degli altri conosciuto su YouTube grazie anche alle sue collaborazioni con Mighty Pirate ho cominciato a seguire il suo canale mi è piaciuto e l'ho invitato era un invito che all'inizio sembrava essere destinato ad una sorta di una tantum perché lui era molto impegnato ed è molto impegnato tuttora è un uomo che non dorme mai e invece ci siamo trovati benissimo e siamo diventati collaboratori oserei dire storici grazia ah la storia di grazia è decisamente più complicata tutto 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 ancora una volta nasce in università corso di storia della televisione e della radio il professore credo si chiamasse Simonelli ve lo dico subito dovrebbe essere Giorgio Simonelli ve lo confermo era proprio lui molto simpatico esuberante faceva parte all'epoca del cast fisso di tv talk trasmissione che va ancora in onda sulla Rai e che riflette proprio sui programmi televisivi della settimana e lui propose a noi del corso di fare dei provini perché in quel periodo stavano cercando dei nuovi opinionisti in trasmissione magari non l'avete mai seguita ma oltre al presentatore degli esperti in studio ci sono anche dei ragazzi circa una decina che interagiscono con i vari ospiti pongono domande eccetera quindi partecipammo quelli volenterosi ai provini io ovviamente non fui preso ironico a ripensarci ma fu preso il mio amico con cui ho frequentato elementari superiori ed università Alessio Fiorito che tra l'altro poi è diventato anche un giornalista ha condotto degli approfondimenti televisivi adesso si è trasferito a Roma l'ho un po' perso di vista ma magari se cercate su Google scoprite delle cose Alessio Fiorito quindi entrò a far parte del programma e tra gli altri giovini lì presenti c'era anche Grazia San Bruna che conobbi sempre per via di questi contatti di questi collegamenti quindi passavo dal mio amico Alessio a lei poi forse per la prima volta interagì con lei ad una sorta di festa del network showreel perché in quel periodo il mio canale faceva parte di quel network scambiamo più o meno due chiacchiere poi un'estate un'estate veramente caldissima dove non avevo una cippa lippa da fare avevano appena introdotto le dirette su Instagram e io di sera ma veramente attorno a mezzanotte ogni tanto mi mettevo lì facevo queste dirette e lei era collegata ho pensato ma proviamo a coinvolgerla a fare questi esperimenti e si creò questa particolare alchimia del delirio che mi sono sentito di portare avanti anche nello show è una persona molto diversa da me con interessi molto diversi ma credo che ogni tanto sia anche divertente interagire con un'appassionata di televisione di cinema ma non propriamente nerd barra geek che infatti di tanto in tanto consiglia pellicole peculiari poi abbiamo dei gusti diversissimi di solito quello che piace a me non piace a lei e viceversa quindi saluto anche il signor Giacomo in chat così è nata la sciura grazia vediamo poi chi altri questa è la siglettina che mi permette di guadagnare tempo eccoci ok abbiamo spuntato anche grazia e dopo troviamo signor Giacomo già fatto l'uomo già fatto Angel anche lui già esperito ma come Vittorio Sgarbi il collezionista di ombre anche in questo caso non aspettatevi granché recensioni film su youtube alla ricerca di new entry alla ricerca di collaboratori canale il collezionista di ombre quest'uomo simpaticissimo acculturato con una collezione alle sue spalle incredibile hai voglia di partecipare ai format del mio canale sì molto volentieri andata anche il collezionista si meriterebbe molto più seguito e molti più iscritti comunque posso dirlo credo senza timore e dismentita eccoci qua il collezionista Andros abbiamo detto abbiamo detto scambi amorosi maso sapete che maso non me lo ricordo benissimo per fortuna che in chat magari la memoria più fresca di me anche lì ipotizzo amicizi in comune in particolare punterei tutto su Gabriele Tassotti che saluto caramente nel caso dovesse recuperare questa diretta anche lui per pochissimo tempo youtuber videoludico ma davvero pochissimo tempo però è delle marche per due tre anni si trasferì a Milano per amore tra l'altro si trasferì qui nella città meneghina è un personaggio meraviglioso fantastico un peccato che non abbia più prodotto contenuti per il web e conosceva maso e quindi credo ancora una volta che amici di amici sia un tradunion perfetto per tante di queste storie me lo conferma maso nel caso fosse ancora presente non credo di aver detto cavolate penso di essere stato abbastanza accurato ma sono pronto ad eventuali smentite Travatar anche qui siete pronti alla grande rivoluzione ok maso mi conferma che ci siamo conosciuti grazie a a Gabo il Tassotti ma ci si conosceva prima ti intervistai assieme a Davide ok ok però dai bene o male sono riuscito a focalizzare il periodo Travatar sarete particolarmente sorpresi recensioni film su youtube canale Travatar ah ma guarda un po' com'è simpatico secondo me potremmo andare d'accordo secondo me potrebbe funzionare all'interno delle rubrica in particolare Travatar cominciò ad interagire nell'ambito delle retrospettive ci fu un momento in piena pandemia in cui sostanzialmente questo canale diventò Matioski Travatar forever and ever e non c'è nulla di più e nulla di meno non ci sono colpi di scena peculiari come vedete mi vanto di essere un talent scout so Pippo Baudo so Angel abbiamo detto Travatar abbiamo detto il signor F il collezionista Kalel che non fa più parte di facce di nerd da una vita ma lì posso vantarmi lì posso vantarmi di essere stato veramente uno dei primi a scoprirlo nel senso che ho cominciato a seguirlo con i primissimi video ma sul serio primissimi in cui faceva i confronti tra i libri e i film di Harry Potter e persino gli commentavo i video perché c'erano pochissimi commenti ma io gli facevo domande ero incuriosito indagavo poi esploso adesso è decisamente più grande di me però ancora una volta YouTube correlati video che spuntano personaggi che destano la mia curiosità e quello è perché non viene più perché e rispondo anche a Michael Righini perché entrambi hanno sofferto particolarmente l'addio alla modalità Google Hangout non so spiegarvi bene il motivo se ricordate però c'è stata una sorta di interregno prima di scoprire tutte le potenzialità di StreamYard perché adesso è molto agevole e viene utilizzato pressoché da tutti è l'alternativa ad OBS ci fu un momento in cui facce di nerd visse in un limbo perché non capivamo bene come far a streamarlo e quindi forse era un periodo un po' imballato un po' schematico loro due lo soffrirono particolarmente Michael a un certo punto me lo disse chiaramente che non si trovava più bene come prima poi non ho neanche approfondito Kalel non me l'ha mai detto in maniera chiara ma quando domandi una persona per 10-12 volte di fila se gli va di partecipare questa ti risponde sempre no 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 alla tredicesima non lo inviti più questo è ma come ho conosciuto Michael uniamo gli argomenti sempre primo periodo della storia di YouTube Italia sempre il 2010 un 2010 in cui ci conoscevamo sostanzialmente tutti tutti trio i fuori di testa perché Michael faceva parte di un trio comico e all'epoca presentava dei video che sembravano seriamente innovativi vari raduni in quel di Milano all'incirca ogni sei mesi c'era un raduno milanese tra tutti gli YouTuber di grido del periodo e potevamo farlo in tranquillità perché eravamo dei signori in nessuno Michael assieme agli altri due decise di venirci a trovare e da lì sbocciò l'amore anche in questo caso massima semplicità proseguiamo quindi facendo anche dei nomi che non hanno mai preso parte a facce di nerd però io questi non non li considero cioè ad esempio i Pantellas leggo ma quando mi hanno fatto parte di facce di nerd no sarebbe un racconto interessante volendo magari me la fate dopo come domanda bonus quando cominciamo a dare spazio un po' a tutti no? però adesso come adesso Michele Innocenti collegamento con Paolo cominciamo subito a dire come ho conosciuto Paolo ricerca su YouTube recensioni fino a un certo punto in realtà il collezionista di ombre fece un po' di dirette qualche anno fa o comunque forse era coinvolto anche tra avatar ci sono tanti canali che fanno diretta a tema cinematografico più o meno come facce di nerd e lì alcuni dei vari componenti dei vari membri mi incuriosirono tra cui Paolo per l'appunto Paolo poi molto spesso faceva dirette con Michele Innocenti Michele Innocenti ha insistito un bel po' per partecipare a Facce di Nerd io all'inizio sono stato un po' sfuggente perché avevo paura che la sua personalità rischiasse di schiacciare troppo gli altri perché comunque quando si compone il cast di un format bisogna pensare anche ai giochi di equilibri alle interazioni tra tutti i personaggi del cast avevo paura che sarebbe stato un po' troppo prevaricante in maniera involontaria invece no adesso non riesco ad immaginare un facce di nerd senza di lui anche in questo caso abbiamo preso due piccioni con una fava Rob qui le cose si fanno più interessanti senza dubbio corso di recitazione a Milano quanti anni fa ormai secondo me è passato più tempo di quanto si è disposto a credere almeno otto forse almeno otto corso di recitazione al centro al centro teatro attivo di Milano lo feci per due anni il primo anno con hobby Alessandro Ravagnati che ha fatto parte per un certo periodo del cast di facce di nerd interpretava il signor Cecconi nella mia webserie mia di Victor webseries are dead e quindi uniamo un po' varie genesi il secondo anno con hobby Rob anche qui mi vanto di essere stato un moderno Pippo Baudo perché fui io a coinvolgerlo per la prima volta in maniera così attiva su YouTube vi ricorderete addirittura che all'epoca non aveva una webcam e che interagiva in facce di nerd più o meno come fa Angela adesso non mostrandosi tanto è vero che c'era la gimmick il personaggio dell'intelligenza artificiale Rob era questa intelligenza che veniva parlava e interloquiva tra l'altro questa è una cosa che magari alcuni di voi sapranno nello stesso corso quindi si tratta di un ragazzo veramente simpatico alla mano e talentuoso e ha conosciuto me Alessandro Lavagnati Rob Benquak io ho studiato recitazione assieme a quello che è il doppiatore di Buzz Lightyear nell'ultimo film Lightyear la vera storia di Buzz Alberto Malanchino che ormai all'interno del panorama italiano è lanciatissimo è uno dei protagonisti della serie Doc fa un sacco di cose lavora anche a teatro e io l'ho conosciuto posso dire di essere stato suo amico quando nessuno avrebbe mai pensato era bravissimo si capiva già che ci fosse tanto tanto potenziale e lui non era un passatempo studiare recitazione non era un hobby era voleva farlo come lavoro e se lo merita tutto per quanto mi riguarda è veramente bravo e francamente dopo un approccio a dir poco traballante nei trailer l'ho anche apprezzato nel doppiaggio del film e quando mi capita di fare zapping in tv lo apprezzo anche in doc in realtà guardo solo le sequenze che lo coinvolgono perché mi piace dire io lo conoscevo io lo conoscevo e comunque continuo a rispondermi anche mi piacerebbe coinvolgerlo magari prima o poi in diretta in trasmissione mi piacerebbe molto chissà forse ce la faremo ce la faremo anche se adesso un vippone altre richieste le stiamo facendo più o meno tutti più o meno li stiamo esaurendo quindi abbiamo detto di Michele abbiamo detto del signor F aspettate riprendo un po' le fila del discorso dagli ultimi commenti debots debots ok rubrica su The Mandalorian necessità di avere un esperto starwarsiano un po' super partes e forse più freddo e distaccato nel giudizio oppure più appassionato genuino visto che io Angel e Giacomo eravamo già abbastanza smaliziati avevo chiesto a Giorgio Bondi di Star Wars Libri e Comics ma lui non poteva e quindi mi ha consigliato debots e così iniziò il tutto Emilio non ha mai preso parte a faccia di nerd mai però anche in quel caso credo di averlo conosciuto attraverso ricerche su YouTube intanto leggo Sean ma ti ignora perché è famoso ho appena detto che mi risponde ancora oggi su Instagram ma fa niente la Svet ha fatto riferimento a dello spionaggio industriale ma io non è che abbia ben capito perché allora per come la ricordo io per come la ricordo io ci siamo conosciuti scambiandoci messaggi sotto video su Facebook perché comunque facevi già parte indirettamente del mondo del web in quanto recensitrice opinionista ah infatti era uno scherzo opinionista videoludica e quindi commentavo i miei video io commentavo i suoi contenuti su Facebook eccetera in maniera molto simpatica ma posto che forse c'eravamo già incrociati da alcune fiere l'incontro più significativo dove nacque l'amore è alla Games Week non rammento l'edizione stand dedicato al videogioco di ruolo di South Park molto divertente e carino oltretutto ecco come promuovere come sponsorizzare al meglio questo videogioco nell'ambito di una fiera tanto conosciuta e tanto rinomata introducendo l'odorama c'era una una demo una demo del gioco con l'implementazione di questo odorama ti infilavano era una sorta di visore che spruzzava degli odori in base a quanto succedeva nel gioco il problema è che una delle mosse principali ciao Adriano intanto ciao collezionista una delle mosse più presenti in quella porzione introduttiva del videogioco di South Park era il peto la scoreggia quindi voi immaginate un odore pervasivo di uova marce che io ancora adesso ricordo distintamente mi è rimasta la memoria nel naso una roba disgustosa quindi io mi sono avvicinato a questo stand e c'era una svet già ampiamente traumatizzata non chiedetemi perché mi sottopose allo stesso strazio ma terrificante e io ancora oggi penso con sgomento costernazione solidarietà ai ragazzi che lavoravano a quello stand io vi assicuro che c'era un odore ma un odore di cadavere in putrefazione di liquame sì sì esatto poi ci siamo dati i bacini era impregnata di questo odore la svet poverina e poi ricordo un secondo incontro a lucca comics dello stesso anno e lì notai certi interessi amorosi chi può dirlo ma comunque queste sono state le prime interazioni con svet ottima strategia di marketing comunque sì 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 non l'avevo mai raccontato mi sembrava di sì il signor Gianni oddio aspetta aspetta come l'ho conosciuto vi potrei dire sempre ricerche correlati ma lui fa parte della Slim Dogs che tra l'altro sono bravissimi c'è anche Giovanni Santonocito in mezzo altro youtuber della vecchissima guardia parliamo dei tempi di Freaks non ricordo la prima interazione mi sembra di averlo sempre conosciuto non ricordo il primo scambio il primo contatto vedete esattamente come vi avevo preannunciato forse una diretta degli Slim Dogs boh ho perso completamente il ricordo mamma mia forse qualcuno di voi ce l'ha ben più presente perché come vi ho detto quando conosci magari delle persone non è che poi ti rendi conto in quel momento di ciò che verrà a meno che non le ricerchi in maniera ammirata come ho fatto io tante volte quindi ricerchine ad esempio Capcomics ricerchina su YouTube anche se la prima conoscenza è venuta a dire il vero al Cartoon Mix Games Week di due anni fa ad una tavolata della crew di Dario Moccia c'ero anche un po' infiltrato c'era lui davanti a me abbiamo interagito abbiamo chiacchierato da quel momento l'ho seguito sui social e alla fine l'ho coinvolto però probabilmente sì forse la Slim Dogs mi ha invitato in diretta Gianni mi ha fatto un'ottima impressione allora l'ho coinvolto potrebbe effettivamente essere ora che mi ci fate pensare bravi 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 secondo me i nomi principali li abbiamo più o meno barrati tutti eh chi manca beh ma Immanuel anche lui facce di nerda ha fatto una toccata e fuga tenetela come domanda dopo quando apriamo le danze per tutti morte bianca ha fatto una puntata ma forse me l'aveva consigliato la Svet Bellusci non ha mai fatto parte di facce di nerd uè ma qui vi state confondendo eh dov'è la vostra memoria storica uè scherzo ci sta alla fine interagiamo tutti di settimana in settimana facciamo parte di una grandissima famiglia allargata ci mancherebbe altro ad alcuni ho già risposto magari siete arrivati tardi potete recuperare ovviamente in differita Danny Jena uuuu e Mighty Pirate aggiungerei lo aggiungerei qui bisogna veramente allora devo cercare un videogioco su google che può orientarmi a livello di tempistiche The Curse of Monkey Island gioco del 1997 probabilmente io lo acquistai nel 98 facciamo così allora muoviamoci nell'annata 98 99 forum italiano di Monkey Island Mighty Pirate aveva creato forse non era il primo fan game italiano di Monkey Island ma di certo il primo che ottenne una grandissima celebrità Monkey Island Zero prequel della saga che se ci giocata adesso era fatto con un programmino lascia il tempo che trova ma all'epoca era qualcosa di incredibilmente innovativo ricco di cuore di voglia di raccontare di voglia di interagire tutti assieme si formò una community fortissima di cui ho fatto parte veramente per almeno 5-6 anni e c'era anche Danny Jena tra l'altro non è che all'inizio mi stesse molto simpatico però poi ci siamo conosciuti meglio ci siamo conosciuti bene ed è un altro che su YouTube a mio avviso avrebbe potuto dar tanto però un carattere che ogni tanto lo frena si demotiva un po' troppo facilmente c'è ancora il suo canale se lo cercate ci sono delle recensioni di cartoni animati vintage veramente divertenti e realizzate con tutti i crismi chiedetegli di tornare chiedetegli di ritornare su YouTube a farsi sentire e a regalarci video divertenti mi raccomando mi raccomando tatatata tarattara tatattara tarattara città non ha mai fatto parte di faccia di nerd il tizio che io sappia neppure però è molto semplice sempre primo periodo di YouTube nel 2010 quando ci conoscevamo tutti la stessa cosa vale per Dave Blisken che se ci fate caso è incluso proprio nel primo nucleo fondativo la Shura Claudia credo non abbia mai fatto parte del format Giulia Bifrost video correlati su YouTube ricerche spontanee di nuovi ospiti siamo direi gli sgoccioli i racconti si fanno meno creativi meno interessanti e assai ridondanti perché poi alla fine vi ho detto che ad un certo punto sono andato a cercarli tutti io dal primo all'ultimo secondo me possiamo possiamo chiudere possiamo chiudere questa sorta di main event Lorenzo Signore ricerca su YouTube di persone che parlassero di cinema credo di aver fatto una bella ritrospettiva approfondita vi dimenticate qualche pezzo particolarmente rilevante del cast io continuo a dire che molti gli ho già raccontati soprattutto all'inizio della diretta siamo a 49 minuti è evidente che se entrate adesso vi siete persi 40 minuti di monologo e di spiegazioni assortite la squinzia YouTube ricerche correlati stessa solfa talent scouting mi dite che il tizio ha partecipato però ho già detto ecco veramente nella YouTube primigenia del 2010 ci conoscevamo tutti 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 per merito di Yotobi soprattutto che è stato veramente fondamentale per la formazione della community di YouTube Italia è stato fondamentale a dire poco ed è un peccato che poi nel corso degli anni si sia sempre più chiuso a riccio è veramente un peccato adesso si sta in parte riaprendo ma non come una volta non come un tempo sto pacciaro bella domanda il primo contatto diretto con il mondo del doppiaggio è stata Benedetta degli Innocenti che forse cominciò ad interagire con Victor e scoprimmo tutti che ci seguiva e che addirittura era in parte d'accordo con le nostre critiche nuovi Star Wars pur doppiando Rey credo che da lì sempre tramite Victor si è stese il cerchio arrivando anche a sto pacciaro che è veramente una persona adorabile credo sia uno degli uomini più buoni del mondo uno dei doppiatori che ha più voglia in assoluto di parlare del suo lavoro che è ancora davvero appassionato tiene davvero i personaggi che interpreta ed è anche un nerdaccio di prima categoria quindi così fu così fu il canale di Jack credo sempre merito di Martina e di quei suoi format Martina Vidrip e dei suoi format in cui parlava del mondo della musica credo proprio di sì di averlo conosciuto in quel contesto secondo me abbiamo finito penso che abbiamo finito Chuck Jam ricerche su YouTube facciamo così abbiamo finito i racconti interessanti tutto lo resto è ricerca talent scouting creator trovati per caso su YouTube conosciuti in circostanze più o meno fortuite o invece spiccatamente desiderate ad esempio ufficio magico pensate un po' YouTube ricerca di video a tema Harry Potter Giulia Bifrost stessa cosa non ci sono più risposte creative quindi davvero chiuderei la parentesi e comincerei a dedicarmi a tutte le altre domande facciamo così molto bene a questo punto cominciamo la seconda parte della diretta e concentriamoci in primis sulle domande degli abbonati quindi andiamo nel gruppo delle concubine e abbiamo due domande di McLovin iniziamo dalla prima prima domandina sugli Oscar volevo chiederti chi secondo te vince la statuetta come miglior attore protagonista a mia sensazione quest'anno è veramente incerto ma anche leggendo le nomination ai Golden Globe per farmi un'idea dei nomi non saprei non credo a Brandon Fraser vincitore mi sembra un po' una parabola alla Michael Keaton purtroppo per lui poi The Way anche a Venezia non è stato molto apprezzato forse potrebbe essere l'anno di Colin Farrell perché il film è stato molto apprezzato dalla critica o addirittura sarebbe bello secondo me Austin Butler per Elvis tu cosa mi dici? io vado su su Colin Farrell con The Benshies of Vinichirin ammazza che scioglilingua film che credo non sia ancora arrivato in Italia o se l'ha fatto non ha avuto ampia distribuzione a quanto pare molto apprezzato molto bello e lui è caldeggiato da molti quindi mi sento di dire Farrell così eh senza neppure aver guardato il film ma sulla carta andando un po' a notare le candidature in tutti i premi secondari punterei scommetterei alla SNAI facendo il suo nome diciamo così seconda domanda di McLovin seconda domandina barra considerazione su Knives Out Glass Onion che ne hai già parlato e concordo abbastanza con te a me mi ha deluso abbastanza e diciamo che questi film come molti blockbuster Netflix ti fanno venire la nostalgia per i vecchi produttori che rompevano le balle per il budget per il minutaggio perché qui veramente secondo me questa storia potrebbe essere raccontata meglio in maniera più sobria con un terzo del budget che poi è stato il segreto del primo Knives Out perché ha funzionato così bene grazie alla prossima sono completamente d'accordo con tutto quello che hai detto dalla prima all'ultima parola chiariamo però Glass Onion non è un brutto film si merita un'ampia sufficienza e il suo impianto misteri è interessante è creativo è riuscito è un bel giallo il o la colpevole è abbastanza prevedibile ma come capita spesso in storie di questo tipo il gioco non è tanto capire chi sia stato ma perché ha fatto ciò che ha fatto come l'ha fatto andare a smontare il meccanismo tuttavia il suo più grande problema che è quello che me lo fa mettere dietro a Knives Out e che più ci penso e meno me lo fa apprezzare al punto che probabilmente se mi chiederete tra un anno cosa ne penso vi dirò che Glass Onion è una schifezza è il tono a dir poco sopra le righe in tutto e per tutto no il budget non è lo stesso del precedente siamo passati da un film il primo che riproponeva uno schema classico con un tono sempre tendente al comedy ma sofisticato casa famiglia un protagonista quello di Benoit Blanc abbastanza eccentrico ma non macchietta aveva sì dei comportamenti ogni tanto un po' esosi però era un personaggio credibile d'altro canto anche Poirot corre sempre il rischio di essere una macchietta ma Gata Christie si frenava in tempo c'era anche questo rapporto di amore e odio tra scrittrice e personaggio Sherlock Holmes stesso ha dei comportamenti peculiari no? ecco siamo passati da quello a Glassonion dove l'ambientazione è un'isola posseduta da questo miliardario super eccentrico i personaggi arrivano non sono spoiler della trama sono spoiler di contesto situazionali i personaggi arrivano a bordo di questa imbarcazione e c'è un molo di vetro che emerge dalle acque c'è un robot che porta le valigie degli ospiti un robot a quattro zampe c'è questa gigantesca cipolla di vetro che dà il titolo al film questa casa ricca di opere d'arte e questo miliardario anche qui non è uno spoiler rilevante per la trama è la situazione è il contesto che vi viene raccontato nei primi minuti questo miliardario ha creato una nuova fonte d'energia tutti i personaggi sono eccentrici tutti dal primo all'ultimo tutti starebbero benissimo in commedie molto sopra le righe Benoit Blanc non siamo dalle parti di Jack Sparrow per fortuna ma io ho molto timore per quanto riguarda il terzo film molto timore e il finale sembra che ad un certo punto fosse terminato dieci minuti prima sarebbe stato un film persino coraggioso nella sua chiusura amaramente pessimista ma no ci sono gli ultimi dieci minuti e diventa una baracconata sembra che Michael Bay sia passato sul set all'improvviso mi spiace mi spiace già il secondo film per farvi capire siamo arrivati al punto in cui c'è una gag basata sul fatto che oh ma lo sapete che Daniel Craig ha fatto 007 lui è James Bond ragazzi non so se lo sapevate ma lui è James Bond lui è veramente James Bond al secondo film siamo già a quel punto vabbè speriamo in bene per il terzo ma come diceva l'utente credo che nessuno abbia messo freno a Ryan Johnson e per me Ryan Johnson è uno dei misteri cinematografici più profondi degli ultimi anni mi sembra quasi che ad un certo punto una sorta di club segreto che si raduna alle pendici di un vulcano per decretare le tendenze del cinema questo club segreto appunto abbia deciso che oh Ryan Johnson è bravo Ryan Johnson è un bravo regista Ryan Johnson si merita la credibilità di essere un ottimo regista ok io ho visto quattro film suoi e me ne è piaciuto uno uno su quattro beh ci sono anche medie peggiori sarò io che non riesco di interfacciarmi con la sua poetica può essere tecnicamente non si discute tecnicamente sa muovere molto bene la macchina da presa ed è anche creativo nella sua messa in scena ah ecco Breaking Bad facciamo allora due prodotti su cinque è creativo però ecco secondo me per me per quelli che sono i miei gusti è un ottimo regista ma è un pessimo sceneggiatore forse pessimo no mediocre nel senso che io credo che le sue sceneggiature abbiano bisogno della supervisione da parte di altri cosa non ti torna il looper che non è un loop un film che parla di un loop temporale ma che invece non è un loop dove la soluzione finale non ha alcun senso di esistere perché se mi dici che tutto è un loop allora magari qualcuno di voi non l'ha visto mi tengo largo quello che fa il protagonista alla fine dovrebbe essere integrato nel loop è un cerchio eh idea mia va bene no gli episodi di Breaking Bad non li ha sceneggiati che io sappia non mi pare dobbiamo andare a controllare ma non mi sembra guarda comunque la puntata più famosa che ha diretto è The Fly Breaking Bad in Italia l'hanno chiamata Caccia Grossa beh quindi diretto da Ryan Johnson scritto da Sam Catlin e Moira Wally Beckett quindi no no in Breaking Bad faceva il mestierante passatemi il termine lo chiamavano per dirigere niente di più niente di meno domande in chat anzi prima ci sono le domande scritte degli abbonati che però non sussistono quest'oggi non mi pare ci siano altre domande audio nel gruppo delle concubine e direi proprio di no ma possiamo andare a leggere le super chat a questo punto che ne dite? quindi sezione apposita super chat e abbiamo Sir Porpetta gli HMet li hai mai invitati ci ho provato tantissime volte perché Luca in particolare è un grande fan del canale non si perde una diretta molto spesso mi scrive ed è una persona buonissima gentilissima l'ho reincontrato alla Games Week ed è sempre stato un piacere ma non siamo mai riusciti a trovare il momento giusto in futuro potrebbe far Capolino a me farebbe molto ma molto ma molto piacere quindi potrebbe avvenire Ulisse 1989 Dave Pliskan che fine ha fatto non mi permetto di dirlo fuori facce di nerd invece Pallon vabbè l'ho detto prima giusto appunto lui mi ha riconosciuto in università e abbiamo iniziato ad interagire l'ho raccontato proprio all'inizio della diretta se vuoi puoi recuperare ma appunto per farla breve concorso 3000 iscritti di Yotobi partecipammo entrambi io secondo e lui terzo o viceversa non mi ricordo più forse io terzo e lui secondo e mi scrisse con i messaggi privati di YouTube ma tu per caso hai frequentato quella lezione in università sì c'eri anche tu sì vediamoci questo è comunque una grande scoperta di faccia di nerd Filippo oltroquando una miniera sì 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 di Filippo oltroquando mi vanto abbastanza no comunque non rispondo a domande su Dave perché sono questioni che riguardano la vita privata delle persone casomai chiedete direttamente a lui probabilmente vi racconterà la sua versione voi ricordatevi sempre che molto spesso la verità sta nel mezzo ma io non mi permetto di parlarne veramente no 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 materia assolutamente complicata e da toccare con i guanti che non ho alcuna voglia di spettacolarizzare in pubblico Siro B scrive non ce la faccio troppi ricordi eh ti capisco ti capisco una puntata di microfono aperto sull'onda della nostalgia Matteo Pelli Fanta Casting Brian Cranston come Norman Osborn che ne pensi non ce lo vedo per niente proprio per niente un po' perché il momento d'oro di Cranston ai noi è già finito un po' perché a livello di Physique Durol non mi sento di accostarlo per Norman Osborn ci vuole qualcuno di più giovanile io non so perché mi è sempre rimasta in testa l'opzione da fantacasting anche lui attore che ormai è in china discendente Matthew McConaughey non chiedetemi il motivo ma veramente c'è bisogno di massimo un cinquantenne non andrei più su non andrei più su facciamo un Norman di cinquant'anni quindi Cranston mi sembra un po' troppo in là ti dico ti dico no anche se è un ottimo attore e dovessero sceglierlo accetterei di buon grado la posizione tuttavia se lo chiedi a me ringrazio Riccardo Testa per la donazione mi dicono che Cranston è uguale all'Osborn di Siege se quello che ricordo io in realtà era Tommy Lee Jones però te lo confermo era palesemente Tommy Lee Jones cioè se quello è Brian Cranston io sono Napoleone Bonaparte ma capisco che ognuno possa vedere nelle tavole un po' ciò che vuole all'insegna dell'interpretazione artistica bene super chat lette tutte passiamo alle domande free della chat vediamo un po' cosa mi chiedete qual era la frase involontariamente comica in Avatar 2 domanda MC spoiler di Avatar 2 per chi non l'avesse ancora visto a parte che non si entra nei dettagli della trama quindi non temete non è nulla di particolarmente disturbante e rovinoso nel caso in cui non abbiate ancora visto la pellicola di James Cameron quindi cercherò di essere vago c'è una situazione in cui uno dei figli di Jake interagisce con lui lui si aspetta che ad averlo tratto in salvo all'interno di una scena action bella concitata sia uno dei due figli invece l'altro e il modo in cui se ne accorge in cui lo dice ha fatto scaturire copiose risa in sala e io sono d'accordo va bene tutto si era capito il percorso di entrambi i personaggi ma cazzo e più o meno papà papà sono stato io e lui ah avrei preferito ah veramente da mandarlo a fare in culo per vie direttissime quindi era quello a cui mi riferivo cosa farai a capodanno una cippalippa in panciolle me ne starò non sono un amante del capodanno non sono una di quelle persone che se a capodanno non escono a festeggiare con meriedi di amici in discoteca in un locale in case improbabili in montagna senza riscaldamento non sono uno che sta male quindi mi basta passarlo in casa cenare piacevolmente con persone in questo caso molto probabilmente sarà una persona sola a cui voglio molto bene passare del tempo divertirsi chiacchierare guardare magari qualche film giocare questo sarà il mio capodanno e non ne sono dispiaciuto ovvio poi purtroppo quest'anno tanti sono sono via Vittorio e la Svet non sono a Milano l'uomo che sapeva troppo sarà via con la sua fidanzata quindi non siamo riusciti a creare il solito gruppone ma ma poco male poco male un capodanno bello rilassato e ricco di buoni sentimenti quali sviluppi si possono prevedere per i cinecomic Bonelli dopo l'insuccesso di Dampir sai che non ne ho idea se dovessi guardare nella sfera di cristallo non se ne parlerà mai più di questo Bonelli Cinematic Universe non ne parleranno mai più sperando che la gente si dimentichi della sua esistenza rimane un filo ancora in sospeso la annunciata svariato tempo fa serie su Dylan Dog prodotta da James Wan e io lì francamente ne parlavo proprio con l'uomo l'altra sera mi sento di avanzare dei dubbi per un motivo molto specifico James Wan ha stretto una partnership a dir poco duratura con la Bloom House sostanzialmente Jason Bloom e James Wan sono diventati i James Gunn e Peter Safran degli horror Wan si occuperà del lato creativo Bloom si occuperà di quello che fa sempre ovvero il produttore quindi a fronte di un ruolo tanto importante a fronte della volontà di realizzare l'hanno già detto una mole abbastanza consistente di film ogni anno pensati per la sala e per lo streaming a me sembra che il progetto Dylan Dog dalla mente di James Wan sia già andato via mi sbaglierò sono tutti i sentori ma francamente Dampier è andato malissimo non credo ci siano le premesse per proseguire non credo vero poi che i film in Italia vivono anche molto di distribuzioni non video vendite di diritti televisivi ma sinceramente c'è chi dice beh ma Dampier l'ha acquistato la Sony distribuzioni in Europa sì ok però io Dampier l'ho anche trovato carino sufficiente l'ho visto volentieri lo rivedrei altresì volentieri però è un filmettino un filmettino che se lo distribuisci in Spagna in Francia ma quale clamore può suscitare c'è veramente un film che sembra quasi pensato direttamente per lo streaming direttamente per la televisione è un film piacevole da sabato pomeriggio sul divano spanciati mezzo addormentati allora te lo guardi ma non è chissà quali ambizioni non è un Iron Man per dircela papale papale e allora la vedo maluccio la vedo maluccio peccato peccato ma ricordatevi di quello che vi dissi eh a Luca quando annunciarono il progetto non se lo cagò nessuno è brutto da dire ma a quanto pare avevo visto bene Riccardo fa una super chat lo ringrazio però la domanda è veramente complicata top 5 flop 5 delle serie tv dell'anno c'è una domanda che rischia di imballare tutta la diretta e quindi sarò molto rapido anche perché non riesco a pensarci adesso su due piedi le mie serie preferite dell'anno scissione del 2002 quindi sì stranger things 4 andor only murders in the building e forse ne ho scordata qualcuna tra le peggiori assolutamente 1899 she Hulk le robe marvel comunque sono tutte da flop dalla prima all'ultima altre robe veramente pessime che ho in cui mi sono imbattuto the boys house of the dragon per me sono da flop e direi che abbiamo completato ho detto 2002 ovviamente intendevo 2022 e direi che abbiamo completato il il quadro rings of power mi è piaciuta mi è piaciuta molto non so se sarebbe esattamente da top ma forse sì tutto sommato obi wan è una chiavica ovviamente da flop sono più le flop che i top ahimè peacemaker non l'ho finita e comunque non l'ho finita punto ne riparliamo quando l'avrò finita anche se mi sta piacendo molto arrivato alla quarta puntata mi sta piacendo molto chi avresti visto al posto di Jeremy Renner nel ruolo di Hawkeye addirittura parliamo di fantacasting ipotetici andando a parare nel passato grazie per la super chat boh farò un accostamento strano ma che però ha senso di esistere la mia mente ha viaggiato in questa direzione Jeremy Renner ha interpretato il protagonista di un rilancio andato abbastanza male della saga di Bourne quindi mi allineo con Hughes e dico Matt Damon Matt Damon come occhio di falco sì 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 sarebbe stato convincente pollice alto California il brand Shrek ha ancora del potenziale sì altro che altro che ce l'avrebbe se l'animazione fosse ancora nello stato di salute del pre-pandemia perché ti stavo dicendo sì 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 certamente decisamente però il gatto con gli stivali due seppur molto apprezzato da chi l'ho visto e io non l'ho ancora visto non sta ammietendo chissà quali incassi anzi anzi non è costato non è costato moltissimo per fortuna quindi forse con un po' di fatica potrebbe rientrare nel budget però caspiterina film d'animazione natale e sta andando a rilento l'anno scorso era andato meglio Sing 2 ed era l'anno scorso quindi il nome Shrek sarebbe decisamente più potente di quello del gatto con gli stivali mi sento comunque di dirti sì mi sento di dirti sì ma non penso se andrebbe al di sopra dei 600 milioni a naso non penso poi attenzione magari il gatto con gli stivali vive di passaparola fa tornare la voglia a tutti di Shrek e quindi si genera una spinta dal basso abbastanza forte che potrebbe portare un eventuale nuovo film sull'orco verde al miliardo agli 800 milioni non lo escludo al 100% però c'è questa incertezza c'è questa insicurezza c'è questa animazione che non funziona più e allora è una variabile da tenere di conto e in conto poi poi grazie per tutte le super chat comunque siete sempre numerosissimi mi concentro ancora sulle domande free della chat quindi ce ne sono due che bene o male si equivalgono quali personaggi useresti per la nuova justice league nuovi membri della justice league nulla di troppo creativo batman superman wonder woman flash lanterna verde hawk girl merchant man hunter sostanzialmente la formazione della serie animata punterei tutto su quella su quella con varianti quindi lanterna verde me l'immagino più john stewart che al jordan aquaman no aquaman no implementazione futura ma non immediata altrimenti diventa veramente la justice league di snyder devi un po' cambiare le carte in tavola quindi aquaman francamente lo terrei da parte anche perché secondo me è l'unico progetto che può andare avanti eventualmente nel post 2024 come film per i fatti suoi se aquaman 2 dovesse andare bene secondo me un aquaman 3 a sé stante scollegato da tutto potrebbero anche farlo e allora è meglio non abusare troppo del personaggio così la vedo io poi si sta giocando me l'avete chiesto l'ho sparata lì senza fare un'analisi troppo approfondita dopodiché parlando di animazione perché gli adulti sono spesso prevenuti al riguardo per fare più incassi devono essere infantili come i minions no per far più incassi devono far parte di un brand assolutamente efficace potente funzionale come quello dei minions che piace moltissimo anche agli adulti quando ho visto il trailer in sala ho sempre sentito alle mie spalle a fianco ridere anche ragazzi della mia età ragazzi più giovani ma non bambini e addirittura persone più grandi per fare quelle cifre il pubblico è transgenerazionale c'è poco da fare Minions 2 ha incassato 939 milioni c'è dentro qualsiasi target ovviamente non penso gli anziani ma se non quelli che portano i nipotini in sala ma c'è dentro chiunque lì perché gli adulti vedono i film animati con pregiudizio è un retaggio culturale è un retaggio culturale il cartone animato associato all'infanzia è considerato tradizionalmente una cosa per per fanciulli per infanti per bambini e quindi e quindi tant'è però adesso non è un problema prima del 2019 ragazzi i film d'animazione erano delle certezze al box office incassavano sempre tantissimo quindi questo pregiudizio non è che incida più di tanto non è quello il fulcro del problema non è quello il cuore poi indubbio che quando se ne parla magari all'esterno delle delle cerchie di appassionati si fa più fatica a vedere un film d'animazione rispetto a quello in live action questo è fuori di dubbio cosa ti aspetti che riveli ganna di inizio anno bene o male l'hanno detto quantomeno la prima fase un po' in stile marvel del suo piano decennale e ovviamente per quanto mi riguarda sarà un reboot totale quindi nuovo universo nuovi personaggi nuove storie credo che annuncerà sicuramente il suo film di superman che dirigerà ne sono abbastanza convinto non lo scriverà e basta lo dirigerà persino credo che annuncerà un film su batman diretto da diretto non interpretato diretto da ben affleck e sugli altri ho ancora tanti dubbi però ne annuncia almeno tre o quattro ne annuncia tre o quattro annuncia a perlomeno una serie tv molto importante forse quella sulle lanterne verdi e chiudo qui c'è una crisi del cinema simile al teatro ci sono dei punti in comune ci sono decisamente dei punti in comune ma d'altro canto io il futuro della sala ho già provato a profetizzarlo più volte io credo che nel corso dei prossimi anni ritorneremo ai cinema monosala con la chiusura in massa dei multisala non di tutti credo che qualche simpatico multisala con due tre quattro schermi massimo possa continuare a vivere ad esempio l'arcadia di melzo per com'è strutturata cinque sale può continuare la sua attività ma in linea generale ritorneremo ai cinema da uno due schermi per tutta una serie di motivi lo streaming imperante la quantità di nuovi media nuove modalità di esperienziare narrazione film serie videogiochi fumetti romanzi il cinema una concorrenza asprissima il cinema costa sempre di più prevede un impegno da parte dello spettatore che invece più comodamente può trovare tutto ciò che cerca comodamente sulla poltrona di casa sua e quindi non ha più senso investire in così tanti schermi e così tanti film le pellicole che funzionano al cinema resteranno i grandi eventi quelli che calamitano l'attenzione dell'utenza dei giovani dei ragazzi del popolo del web quei film che devi vedere assolutamente nei primi giorni per non beccare spoiler per teorizzare sui social con amici conoscenti per parlare al lavoro film anche se vogliamo divisivi quelli che fanno venire la voglia di discutere di battibeccare di scatenarsi di sfogarsi sopravvivranno i film a basso budget di genere presumibilmente horror thriller quel filazzo lì e basta e basta e tutti gli altri verranno realizzati direttamente per le piattaforme streaming per molti uno scenario da incubo lo capisco ma tant'è a me la direzione sembra abbastanza chiara vedendo i risultati al box office degli ultimi due anni mi sembra veramente pulita la traiettoria pensi che Gunn sia la persona giusta per superman chiede scemo e più scemo l'immagine del profilo associata al nick è letale pensi che Gunn sia la persona giusta per superman si 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 è tempo di riportare superman alla sua atmosfera solare alle sue avventure cariche di speranza di ottimismo di fiducia nei riguardi dell'umanità e c'è anche bisogno di un film simile in un periodo in cui siamo tutti scazzati siamo tutti demoralizzati siamo tutti preoccupati dinanzi a un futuro sempre più incerto superman è il personaggio giusto basta saperlo trattare nella maniera più opportuna non crediate che Gunn non possa funzionare se è privo di volgarità o di battute al fulmicotone funziona è bravissimo a commuovere è bravissimo a infondere cuore nelle sue opere quindi io ti dico che sarebbe perfetto e non è che lo vorrei anche diretto da lui lo farà proprio ne sono convinto lo farà lo sta scrivendo sta scrivendo la sceneggiatura secondo me sarà il primo film della nuova fase è giusto associarlo allo showrunner la DC ha il vantaggio che uno dei suoi due Kevin Feige è un regista è direttamente un creativo è direttamente una persona che mette le mani in pasta che scrive e che dirige quindi perché non farli dirigere il primo film secondo me lo farà poi magari no ma se dovessi scommettere yes non spammate troppo le domande mi raccomando se no intasate la chat poi non è più piacevole leggervi e giocare assieme minutaggio di Keaton in the flash bello corposo sarà un coprotagonista a tutti gli effetti c'è chi è convinto che si veda poco c'è chi mi ha scritto su Instagram ma quindi rimuovono Keaton da The Flash non so se avete presente la trama ma Flash si troverà in una realtà parallela dove Batman e Keaton io gli do 40 minuti tutti anche 50 io me l'aspetto molto presente forse 50 sono troppi facciamo 40 facciamo 40 30 ma ci sarà sarà un personaggio importante anche da un punto di vista prettamente emotivo fate conto che avrebbero voluto poi inserirlo in Batgirl in Aquaman quindi è lì per farsi sentire è lì per avere una funzione importante questo credo sia sicuro secondo me non c'entra niente Superman con Gunn quante storie di Superman hai letto io chiedo perché magari sono tante se ipoteticamente venisse sul serio scelto da Uni Junior a fare l'Utor credi che ciò annullerebbe il suo possibile ritorno nell'MCU perché ci sono un sacco di attori che hanno lavorato contemporaneamente in entrambi i franchise e la cosa non ha mai provocato sgomento stupore problematiche varie assolutamente no assolutamente no perché l'unica serie bella su Star Wars è quella meno vista in assoluto pensi che faranno la seconda stagione di Andor ne abbiamo parlato tantissime volte soprattutto nella rubrica però andando a sintetizzare la seconda stagione non è un pensiero la faranno proprio hanno già iniziato a girarla se non ricordo male è in produzione la fanno al 100% perché è meno vista per tutto un insieme di fattori Andor non è un personaggio conosciutissimo l'hanno distribuita su Disney Plus mentre nel frattempo c'erano House of the Dragon Rings of Power e persino She-Hulk sulla stessa piattaforma a tenere banco e a fare concorrenza persino interna nel caso della serie Marvel è una serie dal ritmo lento è una serie che non contiene fanservice e momenti che fanno discutere sui social è una serie che non è per nulla adatta né alla piattaforma che la ospita né al brand di cui fa parte perché è veramente fuori dai canoni è una serie quasi HBO e più HBO di House of the Dragon paradossalmente ed è normale che non piaccia a tanti non è una serie da pubblico generalista non è una serie che può tenere un consenso popolare questo è che fine ha fatto il film su Spawn settimana fa il suo creatore ha postato su Instagram che ci sarebbero state notizie ragazzi il film su Spawn provano a farlo dal 1998 nel 97 è uscito il primo non è andato bene da quel momento in avanti McFarlane rompe le palle secondo me se le cose rimangono come le vorrebbe McFarlane ovvero diretto da lui non lo faranno mai non lo faranno mai circa quanti anni saranno passati cinque o sei sembrava che le cose si stessero muovendo Jamie Fox avrebbe dovuto interpretare il protagonista Jeremy Renner avrebbe dovuto interpretare lo so che vi farà ridere Twitch del duo di poliziotti che investiga nel mondo di Spawn ma il tutto si è fermato e si è fermato a mio dire perché McFarlane vuole dirigerlo e non ha mai diretto in vita sua una cippalippa che io sappia ed è anche un personaggio McFarlane molto sui generis molto peculiare molto da prendere con le pinze quindi io vi dico che la vedo molto grigia poi certo mai dire mai perché non si sa mai ma secondo me non arriva comunque leggo Black Manta non lo fa più ma come non lo fa più in Acomend 2 c'è Black Manta no perché c'era uno scambio in cui un utente diceva che c'è Yahya Abdul-Matin II che contemporaneamente sarà Black Manta e Wonder Man ed è verissimo perché Black Manta non dovrebbe farlo più poi magari muore in Acomend The Lost Kingdom in teoria C'è la possibilità di universi cinecomics alternativi come Darko Cine e Joe Valiant no no ci hanno provato con la Valiant ed è andata malissimo con il film Bloodsport di Vin Diesel non credo nonostante l'ampio potenziale che questi personaggi abbiano il carisma sufficiente per tenere banco al cinema e poi va bene tutto va bene che un genere il genere di punta del mio canale però ragazzi il troppo stroppia non c'è spazio per tutti non c'è spazio per chiunque hanno cercato di lanciare tanti personaggi in questi anni e non tutti sono andati bene la DC stessa non è andata bene e se non va bene la DC che speranze hanno gli altri secondo me i personaggi di queste case editrici possono funzionare in televisione in tv con serie live action serie animate allora sì al cinema è difficile è molto 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 difficile Federico da tempo desidera una serie su Conan il Barbaro secondo te ci sarebbero difficoltà speciali per realizzarla rispetto ad altre no semplicemente un personaggio che secondo me non è più sintonizzato con i tempi che corrono ovvero non è più il periodo di quel tipo di fantasy cappa e spada puoi mai dire mai con le opportune riletture qualsiasi personaggio può essere spendibile magari se gli associ un attore di punta all'improvviso tutti potrebbero trovare un rinnovato interesse in Conan però non so perché sfortunatamente me lo immagino alla The Witcher e a me The Witcher su Netflix non è proprio piaciuta ci vorrebbe un budget bisognerebbe dare una certa credibilità all'universo di Conan e non è sempre cosa facile non è sempre una cosa così schiocchiamo le dita e la facciamo quindi sono pessimista però pessimista al 60% c'è un 40% di chance di possibilità Nightstone una fanciulla incredibile ipotizzando di ricreare l'MCU da zero chi prenderesti per oddio chi prenderesti per interpretare i vari eroi da Iron Man in poi se non ci fossero stati quelli già scelti mamma mia te ne senso una bellissima domanda veramente complicata io il fantacasting non sono capace di farlo aiutatemi voi perché non lo so quindi MCU da zero ci fermiamo alla prima formazione degli Avengers dai perché altrimenti diventa veramente un casotto ci fermiamo i sei Avengers principali e già lì non ne ho la benché minima idea ragazzi credo che la domanda ipotizzi uno scenario moderno ipotizzando di ricreare adesso credo anche perché è più divertente Tom Cruise è troppo in là con l'età secondo me per quanto arrivarci eh arrivarci però a 60 anni cominciare a fare Iron Man troppo 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 ecco il biondo di Top Gun sarebbe da ok quello lo piazziamo lo piazziamo subito Glenn Powell si chiama Capitano America lui è fatto leggo Pedro Pascal Pedro Pascal a fare Iron Man grazie mille Roberto mentre il biondo me l'ha suggerito Mattia sì quindi Pascal a fare Tony Stark Glenn Powell a fare Cap tra l'altro quanti anni ha Glenn Powell 34 un po' più giovane di Pascal ma comunque ci può stare Thor difficilissimo Thor Alexander Skarsgård ok è un po' typecasting dopo Northman è molto typecasting però ok mi piace rimangono Hulk La Vedova e Occhio di Falco Hulk cazzo è un typecasting anche lui però mi è venuto mi è proprio balzato la mente ha già fatto dei cinecomic ha già fatto un ruolo non dico identico ma che comunque parlava di una dualità esteriore però ragazzi Nicola Sault come Hulk io lo vedrei alla stragrande alla stragrande quindi dico lui Ryan Gosling Occhio di Falco ma no ma no secondo me almeno no poi ognuno la vede a sua Ania Taylor Joy come vedova non ce la vedo per niente vi dico la verità ma proprio per niente non so perché vado distinto vado a distinto e mi manca mi manca Occhio di Falco mi manca la vedova sono i due più difficili forse come vedova aspettate che ve la seleziono aspettate che ci sono dovrebbe tingersi i capelli ma poco male io vi dico quella è venuta in mente anche a voi bravissimi è venuta in mente anche a voi c'è chi le associa al ruolo di Scarlet Witch no Samara Weaving Samara Weaving come vedova se non mi credete guardate G.I. Joe quello con protagonista Snake Eyes Snake Eyes G.I. Joe le origini filmaccio però lei che appare poco rimane occhio di Falco Anna De Armas è abusatissima basta ma poi secondo me è proprio a livello di presa no 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 allora quindi abbiamo detto Pascal Glenn Powell Skarsgård Nicola Sault Samara Weaving chiudiamo con Jensen Eccles non ce lo vedo per fare occhio di Falco come dura come dura è veramente cazzo Alessandro Borghi non lo so David Luna però c'è già Pedro Pascal c'è già lui Mark Wahlberg troppo in là Robby Amel mi dite sai che mi piace mi piace tanto sì 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 mi convince mi convince è una candidatura che mi sento di apprezzare va bene va bene va bene Austin Butler per me la torcia umana perdonatemi ma non riesco a distogliermi dalla torcia non riesco proprio va bene dai li abbiamo fatti ricordatevi sempre quando fate queste domande complesse che si rischia veramente di dare un po' il freno alla rubrica non c'è uno scambio rapido non c'è uno scambio veloce si rischia di rimanere per troppo tempo incagliati questa era bella era creativa però impegnativa da fare in diretta c'è stato il vostro contributo vi ringrazio molto grazie grazie non è già troppo in là per fare la torcia guardate che Austin Butler c'ha 21 anni e Tom Holland al momento ne ha 26 a livello di Physique Duro Austin Butler sembra molto più giovane non c'è questa distanza così larga così ampia secondo me può farla ci sono anche dei rumor a cui non do troppa credibilità ma tutto sommato ultima domanda della giornata secondo te questa è curiosissima secondo te quanto potrebbe incassare un nuovo film dei Simpsons in questo periodo pochissimo pochissimo c'è la crisi dell'animazione i Simpsons non sono sulla cresta dell'onda da una vita vero che ci sarebbe il marketing a dir poco corposo ingente della Disney ma quello del 2007 fece 536 milioni era il 2007 quindi una cifra da leggere a rialzo però secondo me caro Leo per incassare tantissimo dovrebbero dire è il finale dei Simpsons è l'ultima cosa dei Simpsons che vedrete se se la giocano così io vado sui 600 milioni 500 600 proprio per quanto riguarda la forza del finale della chiusura del non ci sarà mai nient'altro altrimenti in condizioni normali pensando un episodio allungato 300 milioni sì ma sì 300 200 sono pochini dico 300 300 con fatica però 300 li farebbe sono comunque i Simpsons dai dai chiuderli con un film secondo me lo faranno prima o poi più poi che prima ragazzuoli grazie mille per aver partecipato alla puntata di oggi domande come al solito interessantissime variegate ci siamo divertiti spero di aver risposto a tutte le vostre curiosità e ringrazio anche tutti coloro che hanno fatto super chat i vari abbonati veramente grazie grazie a tutti sono dirette che mi rilassano sempre moltissimo e che corrono in fretta passano in fretta si dileguono in un lampo ci rivediamo con microfono aperto settimana prossima sempre giovedì alle 17 la domanda del main event non ci ho ancora pensato però avete visto che adesso c'è il sondaggino nella sezione community che mi aiuta un po' a vederci chiaro magari proponete domande appunto per il main event per l'argomento principale anche nei commenti post diretta perché io li leggo sempre e mi aiutano ad avere un po' il polso della situazione per quanto riguarda le curiosità della community grazie ancora a tutti domani alle 16 facce di nerd ciao ragazzuoli alla prossima domani ci augureremo buon anno quindi non perdetevi l'appuntamento ciao ragazzi alla prossima diretta ciao